State ascoltando SBS Italian. Il tribunale di Roma ha sospeso la convalida sul loro trattenimento, rimandando la decisione finale alla Corte di Giustizia europea. Ed ora persino Elon Musk, proprietario di X e Tesla e sempre più vicino al presidente eletto Donald Trump, ha rilanciato la polemica commentando un post sulla vicenda così questi giudici se ne devono andare. Facciamo ora il punto della situazione con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fosi. Buonasera Carlo, ben ritrovato qui su SBS. Grazie, buongiorno a voi. La controversia tra governo e magistratura sembra concentrarsi sulla definizione di paese sicuro. Ci puoi spiegare perché? Sì, perché il problema nasce dal fatto che la legislazione europea impedisce, per quelli che sono i migranti economici cosiddetti e che vivono una condizione di particolare difficoltà, impedisce che questi migranti vengono rimandati dai loro paesi se i loro paesi non sono considerati sicuri. Ed è un vincolo europeo. Il governo italiano ha, come ho detto tu prima, creato, con l'accordo con il presidente albanese Rama, un centro di accoglienza sul territorio albanese per dislocare fino a un massimo di 3 mila migranti in quella struttura, migranti che arrivano dall'Africa e dovrebbero poi essere trasferiti in questa struttura, in attesa poi della loro destinazione finale, e fa questa operazione sostenendo che si tratta di un'operazione legittima e che è in piena regola con la normativa italiana. Il problema è che invece la normativa europea prevale dal punto di vista giuridico, secondo non solo i magistrati italiani, ma anche esperti, giuridici italiani e non prevale sulle norme di un paese membro. Per cui, se i paesi di provenienza non sono ritenuti sicuri, questi migranti non possono essere rislocati nel centro albanese, ma devono rimanere sul territorio italiano fin tanto che la loro destinazione non viene chiarita. Allora il problema è che il governo, fidando le norme europee, ha attivato questa procedura, portando in realtà un numero esiguo, come hai detto tu, erano 7-8 la prima volta pure, erano un numero simile, usando una nave militare appositamente attrezzata, portando meno di 10 persone in questo centro, e però la magistratura italiana sostiene che questo tipo di operazione è illegittima, comunque non è regolare e quindi ha ordinato alla nave militare di fare marcia indietro. È già successo qualche giorno fa una cosa del genere, scatenando polemiche naturalmente tra il governo che sostiene di essere piena della legittimità giuridica e invece i magistrati, in quel caso di Roma, che dicono che la cosa che sta facendo il governo è illegittima sotto il profilo della normativa europea e ha ripetuto di nuovo questo trasbordo, erano 8 ma ce n'era uno che non aveva i propri requisiti per poter essere assurdi, quindi erano 7, però anche in questa seconda volta i magistrati sono intervenuti come la prima volta, dicendo che appunto non è un'operazione possibile. Ora è un vero e proprio braccio di ferro che nasce dal punto di vista giuridico, ma che in realtà poi sottende a uno scontro tra il governo e la magistratura che dura ormai da mesi e che si sostanzia anche nelle riforme che il governo intende portare avanti per cambiare il pianeta giustizia, in particolare quella che è considerata la madre di tutta riforma e la separazione della carriera tra i magistrati inquirenti e i magistrati giudicanti e sulla quale naturalmente la gran parte della magistratura è contene. Quindi insomma uno scontro giuridico che però diventa politico, che riguarda la normativa europea e che sottende la volontà del governo di modificare il pianeta giustizia italiana, ecco tutto quanto questo calderone, come è facile e ben capire, crea un enorme attrito e però questo non fa bene né alla politica né alla magistratura perché lo scontro è diventato davvero al calor bianco. C'è tra l'altro un'enorme polemica sul costo di queste strutture che devono essere mantenute tramite il denaro pubblico italiano. Anche certi elementi del governo si stanno accorgendo del peso di questi costi o si intende comunque andare avanti? No, la Meloni vuole andare avanti, il problema dei costi naturalmente c'è perché per trasportare 10, 12, 15 persone dall'Italia e dall'Albania si spendono dei soldi e comunque in ogni caso si tratta non solo di un intervento contestato alla magistratura ma che comunque non risolve il problema dell'immigrazione. Basta vedere che nel corso di queste settimane e questi ultimi mesi ci sono migliaia di migranti che sono arrivati in Italia e dall'Africa e quindi le cifre del trasferimento sono esigue. E naturalmente tutto questo costa. Ovviamente le opposizioni concordano con quello che è il giudizio della magistratura, sostengono che il governo sta facendo un braccio di ferro esistiale che crea solo problemi spendendo soldi che invece potrebbero essere opportunamente spesi su altri capitoli. Ricordiamo che è in corso d'esame la manovra finanziaria e quindi sulle posizioni che chiedono più soldi per la sanità. Quindi c'è un terreno molto fertile per avviare il confronto. Dentro la maggioranza ci sta qualche voce dissenziente, in particolare da parte di Forza Italia e però in ogni caso queste voci rimangono sottovoce perché l'intenzione ufficiale del governo, nonostante le prese di posizione della magistratura, è di insistere in quella che è un'operazione, secondo la Meloni e non solo, che è da modello per il resto d'Europa, peraltro anche la Fonderland si espresse positivamente su questa iniziativa, salvo poi fare marcia indietro successivamente. Insomma è considerato un modo di affrontare l'immigrazione clandestina efficace e quindi il governo intende portare avanti. Come potrà finire nello scontro tra l'esecutivo e la magistratura, questo non è dato a sapere, al momento è uno scontro che non ci sono le condizioni perché finisca. Abbiamo detto anche del commento online di Elon Musk, questi giudici se ne devono andare, ci sono state reazioni comprensibilmente critiche da parte delle opposizioni, ma se il ministro Salvini si è mostrato entusiasta del commento ricordando come lui stesso rischia il carcere per un'altra vicenda che contrapponeva governo e magistratura sui migranti, ecco sono arrivati, distingo anche all'interno della maggioranza, ad un governo sovranista come quello di Giorgia Meloni. L'amicizia di Musk fa più bene o più male in questo caso? Ma anche qui la questione va inquadrata in quello che è il contesto che si registra dopo l'elezione di Trump perché naturalmente l'arrivo di The Donald alla Casa Bianca modifica quelli che sono i rapporti di forza e anche i rapporti diplomatici tra i vari paesi occidentali e allora che cosa succede? Succede che Salvini che per primo e in maniera totale ha appoggiato Trump rivendicando questo fatto, dicendo che non tutti nella maggioranza la pensavano come lui, il punto d'attacco è forse Italia ma in parte anche la Meloni e quindi nel momento in cui Trump arriva alla Casa Bianca adotta lo stesso stile, lo stesso linguaggio, ha definito zecche comuniste, i manifestanti a Bologna che erano a favore della Palestina, Salvini è stato l'esponente politico dell'anno che prima e più di tutti si è speso a favore di Trump. Nel momento in cui Trump ha vinto la corsa alla Casa Bianca sente di poter rappresentare il trumpismo in Italia e di poter abbia un legame speciale con Washington. Dall'altra parte, anche in vista di questa opzione politica, la Meloni ha sviluppato un rapporto molto stretto con Elon Musk, sono visti a cena a New York, in America sono stati insieme, hanno parlato, qualcuno ha detto addirittura cinguettato, insomma si è creato un rapporto privilegiato. Ora sappiamo benissimo il rilievo che Musk ha sulla nuova amministrazione americana e quindi che cosa succede? Succede che Meloni e Salvini in qualche maniera si giocano, ognuno vuole giocarsi in un rapporto specifico e speciale con la nuova amministrazione americana, lo fanno in ogni occasione possibile, adesso anche a partire dall'immigrazione e dal modo con il quale l'amministrazione americana cercherà di gestire i legami rinnovati con l'Italia. Quindi c'è una partita diplomatica, c'è una partita di comunicazione, ma sotto sotto anche qui, come era dall'immigrazione, come dicevo oggi, c'è una partita politica per Salvini che vuole avere un ruolo sempre più chiaro, diciamo di fungolo dentro la maggioranza e la Meloni che naturalmente invece deve tener conto di quelle che sono le compatibilità internazionali e anche i rapporti con il resto dei partner europei. Io ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma e cambiando ora argomento, c'è un altro scontro che in queste ore il governo si trova ad affrontare che è quello con i sindacati qui sulla manovra finanziaria, qui facevi riferimento prima Carlo, quali sono in questo caso i punti di disaccordo? I punti di disaccordo riguardano, come dicevo prima, le spese sanitarie, riguardano il fisco, la necessità che il fisco magari ha riequilibrato per mitigare le enormi differenze che esistono tra chi prende di più e chi prende di meno e tutta un'altra serie di capitoli che sono contenuti nella finanziaria che per quello che riguarda la CGL e la UIL sono talmente indigenibili che le hanno portati a dichiarare uno sciopero generale che si terrà nei prossimi giorni mentre la CISL ha una posizione più moderata. C'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra la Meloni e i leader di CGL e UIL, un incontro che però non ha dato esito positivo, ha detto il segretario della UIL Bombardieri che si sono stati tanti sorrisi, tante cortesie ma di sostanziale niente per cui i sindacati hanno riconfermato lo sciopero generale e quindi questo sarà un ulteriore elemento di scontro sociale nel Paese tra un governo che deve tener conto dei vincoli di bilancio e dei soldi che comunque sono pochi e i sindacati che chiedono invece più garanzie per i lavoratori dipendenti, l'attenzione sulle aliquote fiscali per salvaguardare quanto più possibile il cedo medio e le parti più disagiate della popolazione e soprattutto interventi seri e strutturali su una sanità italiana che è carente sia di personale, ci saranno migliaia di infermieri indiani che verranno assunti proprio perché mancano quelli italiani, è carente sia di personale che sia di risorse e su questo non bisogna dimenticare che è in corso un'altra battaglia che pure arriverà alla fine a dicembre quando la Corte Costituzionale si esprimerà sul referendum che i sindacati, ma non solo i sindacati, anche pezzi della società hanno indetto raccogliendo il numero adeguato di firme contro la legge sull'autonomia differenziata che pure sul capitolo sanitario comporta una dislocazione diversa di risorse tra nord e sud. Concludiamo questo capitolo battaglie con la notizia del rinvio del voto sulla nomina di Raffaele Fitt come vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea. Che cosa è accaduto? Allora, la partita che riguarda Fitto è particolarmente complicata. Come sappiamo, come è noto, il centrodestra italiano, sia per quello che riguarda Salvini sia per quello che riguarda Veroni, a differenza invece di Forza Italia che è iscritta al P.P.E., non hanno votato il rinnovo del mandato per la Fonderlain, quindi sono fuori dalla maggioranza che guiderà la Commissione. E tuttavia, in virtù del rapporto molto buono che esiste tra Veroni e Fonderlain, la rinnovata Presidente della Commissione, ha inserito un rappresentante italiano, appunto il Ministro Fitto, nel governo della Commissione come vicepresidente esecutivo con una delega per la coesione e per le riforme. Naturalmente, queste nomine debbono poi essere ratificate dal Parlamento e quindi ci deve essere una maggioranza, in prima battuta, anche piuttosto anche dei tre quinti, che dice sì ai commissari indicati dalla Fonderlain e ovviamente anche alle vicepresidenti. Il problema qual è? È che pur non avendo votato la Fonderlain e non facendo parte della Commissione, la richiesta del governo italiano che Fitto stia appunto nella Commissione richiestendo questo ruolo è una richiesta che è invisa a chi invece, e in particolare ai gruppi di sinistra, della sinistra, del PSE, dei Verdi, quella Commissione, i voti della Commissione li ha dati. Quindi il rischio è che Fitto, almeno fino a stamattina, poteva anche essere bocciato, in particolare nell'audizione che c'è stata, e che invece ha visto Fitto dire no, ma io non sono qui in rappresentanza né dell'Italia né dei fratelli d'Italia del mio partito, sono in rappresentanza dell'Europa, sono un europeista appoggio d'Europa, che è un'affermazione abbastanza significativa per un governo che all'improvio interno spinte sovraniste molto forti. Dunque, adesso lo scenario più probabile è che la nomina di Fitto venga approvata, e però questo naturalmente creerà ulteriori tribunzazioni dentro la maggioranza, con il servizio è d'accordo sul fatto che Fitto possa essere eletto, ma non è d'accordo sulla Commissione, su quelli che sono gli equilibri, mentre la Meloni, ottenendo la vicepresidenza per un suo ministro, è ovviamente molto più soddisfatta e molto più in linea con quello che è la Fondazione. Quindi le dinamiche europee complicate, come dire, sono ulteriore benzina sul fuoco, degli scontri nostrani, italiani, che già, come abbiamo detto fino a un minuto fa, non avrebbero bisogno di essere ulteriormente accelerati. Davvero grazie. Quindi a Carlo Fusi, Carlo 1, buonasera a te e risentirci presto. Grazie, arrivederci.